gentili telespettatori buona giornata parliamo di giarrusso io l'ho sempre chiamato giarruso suona meglio giarruso che giarrusso però uno di voi mi dice guarda che si chiama giarrusso chiedo umilmente perdono per il mio errore imperdonabile prometto che non lo dirò mai più giarruso giarrusso vabbè l'euro parlamentare ex iena ex 5 stelle europarlamentare e voi direte ma è così facile diventare europarlamentare sì in queste cose ci vuole una serie di fortune diverse diversi momenti giusti e posti giusti e si arriva a fare anche il presidente del mondo se volete giarrusso con due s fa una figura tremenda tremenda lui dice che non è vero niente sono tutte notizie false contro di lui c'è una specie di gomblotto contro di lui ma l'ho sentita io l'ho sentita io mi sembra come fidanza che dice ma io ho fatto mica niente io ho sempre detto all'infiltrato di fanpage che i soldi vanno dati in maniera regolare se uno lo sente oggi e non ha mai visto quel filmato dice al solito lo volevano tirar giù ma io le ho sentite con le mie orecchie io ho visto e sentito fidanza assieme agli altri che si mettevano d'accordo lasciamo il cellulare sul tavolino appartiamoci a parlare ma quello di fanpage aveva la telecamera nascosta e questo fidanza dice io non prendo soldi perché ho una carriera davanti parla con lui mettiti d'accordo con lui fate voi sul nero ecco dire che lui non c'entra niente non ha preso soldi è vero lui non ha preso soldi ma ha detto di mettersi d'accordo con un altro per il nero quindi quando poi fidanza viene raccontare come questi giorni io ho fatto mica niente è fatto mica niente ancora ho capito che tu sei uno dei vecchi amici di giorgia meloni ti conosce da 25 anni io ti avrei buttato fuori all'istante amico non amico se mi rovini la carriera mi rovini il partito via quello che si è visto e sentito di questo fidanza di quell'altra candidata a milano era sufficiente per mandarli via non servivano le cento ore e qui arriva già russo che ho sentito anch'io con le mie orecchie che si collega con il parlamento europeo con il cellulare con il cellulare e lui dice sono collegato con l'iphone e comincia a parlare in italiano che dice no dal parlamento europeo no aspetti lei si deve fare vedere se no la traduzione non può esserci sono le regole il traduttore deve vedere anche il labiale se lei non accende la telecamera io non posso non posso far fare la traduzione e lui dice ma io ho l'iphone non c'è il programma sull'iphone non posso mettere la telecamera non mi potete vedere e quella dice beh allora non c'è la traduzione lo faccia in inglese lui comincia a dire tre parole in inglese che gigino di maio in confronto è un professore di lingue straniere ha cominciato a dire a far fugliare qualcosa in inglese poi fa no basta basta non non posso andare avanti in inglese voi non me l'avevate detto che 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 io dovevo fare un intervento in inglese una figura ha lasciato perdere doveva difendere il prosecco italiano all'europarlamento visto che ci sono tante imitazioni in giro per il mondo ci sono sono imitati i prodotti italiani fanno perdere 300 mila posti di lavoro e 100 miliardi di pill all'anno all'italia lui doveva difendere i prodotti italiani si è presentato con un con un cellulare senza video senza sapere l'inglese una cosa una roba ecco l'ho sentita e l'ho vista io non ve lo sto raccontando perché ho letto sui giornali l'ho sentita e l'ho vista io ma lui dice che notizie false contro di me e beh complimenti ma questa è proprio una categoria di politici che quando viene beccata a fare queste robe nega nega anche l'evidenza dice un intervento complicato e così lui l'euro e euro parlamentare ma vabbè lasciamo perdere diventa trend su twitter perché il video lo trovate dappertutto argomento il prosecco bene secondo le regole non ci può essere traduzione simultanea questo ve l'ho spiegato dopo un tentativo che dice prosecco patrimonio off unesco quindi quindi mi mescola l'italiano gli aggiunge off unesco come di maio off di maio off maio dopo tre parole rinuncia dopo aver detto off unesco rinuncia il video diffuso anche in televisione da non è l'arena è rilanciato tra gli altri anche da azione fa accendere i riflettori su ma non su giarrusso con due s ma su la classe politica italiana questo fa riflettere su chi ci rappresenta questo è il problema non su giarrusso perché giarrusso è riuscito diventare europarlamentare buon per lui ma il problema non è giarrusso europarlamentare e chi ce l'ha mannato chi ce l'ha mannato chi ce l'ha inviato gli italiani con il loro voto sono gli italiani che hanno dato la possibilità ai vari giarrusso di arrivare in posizioni di potere chiamiamoli così ma lui dice che si trova oggetto di critiche meme assortiti accuse offese con un lungo post su facebook allora quello che volevo farvi capire questo per queste persone che sono la maggioranza nel parlamento italiano fanno queste cose dovrebbero vergognarsi dovrebbero dire speriamo che non ne parlano più facciamo passare un po di tempo non rispondiamo poi gli italiani si dimenticano che è così invece no questo tipo di politici che abbiamo in italia fa queste cose non le reputa neanche gravi cioè hanno la presunzione di sentirsi dei grandi attori politici pertanto succedono queste cose addirittura loro poi vanno all'attacco dicendo che non è vero niente ecco lui dice si parlava della richiesta di protezione europea per il prosecco un vino dolce croato richiesta che noi italiani contestiamo fortemente perché farebbe inevitabilmente concorrenza al nostro prosecco funziona così in europa dice già russo gli italiani parlano in italiano i tedeschi in tedesco i croati in croato e così via ci sono dei traduttori simultanei appositamente pagati per tradurre in tutte le lingue ogni intervento il collegamento da remoto non può farsi con skype o zoom come ipotizzato qualche ignorante ma si può effettuare solo con un software apposito fornito dall'unione europea e con una chiave personale assegnata ciascun deputato dunque si può ascoltare intervenire solo utilizzando quello specifico software con le proprie credenziali quindi dice inizio a parlare e mi chiedono di attivare la telecamera ed io spiego che non posso farlo perché appunto ho l'iphone in effetti il tasto che l'attiva non funziona a quel punto vengo interrotto e mi si chiede già che non sono visibile di procedere con l'intervento ma in inglese provo al volo a tradurre il testo che ho scritto ma mi rendo conto quasi subito di non essere in grado dunque chiedo di poter fare comunque il mio intervento in italiano come mio diritto e come avevano fatto tutti i colleghi italiani che mi avevano preceduto dice a quel punto non solo mi viene negata questa possibilità ma addirittura mi si spegne l'audio impedendomi di fatto di esercitare un mio diritto di parlamentare che è quello di fare il mio intervento nella mia lingua mi arrabbio così tanto da tornare in parlamento la seduta sarebbe duruta altre due ore lasciando mia moglie sola a casa per far valere questo mio diritto tornato in commissione parlo con il segretario che mi spiega come i traduttori si rifiutino di tradurre se non hanno il labiale dunque il video il problema è che nessuno ci ha avvertito prima dell'inizio della riunione come avrebbero dovuto fare che la connessione con l'iphone impedisce l'attivazione della telecamera e di conseguenza la possibilità di intervenire nella propria lingua faccio notare rumorosamente che questo è di fatto una privazione dei diritti bla 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 ma caro Gianrusso quando ci si collega con il parlamento europeo si fa col cellulare per quanto l'iphone sia una roba di classe economica alta gli iphone i mac di questa azienda spesso impediscono molte cose perché le reputano delle connessioni magari truffaldine così quindi ce l'ho anch'io ho anch'io questi dispositivi che utilizzo e so che questi dispositivi spesso impediscono alcune cose a volte anche spiegabilmente però un euro parlamentare che a casa si collega con il computer fisso non con il cellulare come se stesse parlando con l'amico di infanzia insomma la figura c'è il video lo potete vedere è qualcosa di impressionante lui laureato pure in come si chiama boh a una laurea in comunicazione un qualcosa che dovrebbe sapere l'inglese ammenadito no anzi subito i giornalisti sono andati a cercare sul suo curriculum dice inglese buono beh buono a nulla quell'inglese perché non è solo riuscito a dire off unesco ma ogni tanto mi viene in mente di maio quando sento off grazie a tutti e arrivederci